Ciao ragazzi, quest'oggi volevo farvi vedere anche in questa location un po' scura, apposta, le differenze tra gli schermi che abbiamo qui davanti. Perché questo? Perché praticamente per quanto riguarda la descrizione che abbiamo fatto dell'Alcatel Scry Busy, diciamo che sono stato un po' cattivello con questo dispositivo per quanto riguardava il display. Infatti, se voi avete seguito la mia video recensione per quanto riguarda l'Alcatel Scry Busy, vi siete raccolti magari che più volte ho detto, diciamo, male, diciamo così, allo schermo di questo dispositivo. Perché in effetti il dispositivo presenta, dicevamo appunto, uno schermo da ben 5 pollici su questo dispositivo, però è uno schermo da una risoluzione abbastanza bassa. Infatti abbiamo una risoluzione di soli 480x800 pixel. E allora volevo farvi vedere quella differenza, per esempio, con il Samsung Galaxy S4, che vabbè, in questo caso abbiamo praticamente un abisso, visto che il Samsung Galaxy S4 presenta anch'esso uno schermo sia da 5 pollici, ma praticamente abbiamo uno schermo Full HD, quindi una risoluzione davvero di altro livello. Bene. E inoltre, oltre a questi due tipi di schermo, volevo farvi vedere invece la differenza anche con uno schermo che magari non è così performante come il Full HD di Samsung, che sarebbe quello dell'Hacktel One Touch 6030D, che però ci permette di apprezzare quali sono le differenze tra questi appunto dispositivi. L'unica differenza che abbiamo è che l'Hacktel One Touch 6030D ha uno schermo da 4.7 pollici, quindi non da 5 pollici come gli altri due, con una risoluzione di 960x540 pixel. Ed è ecco qui che l'ho messo anche lui vicino agli altri. Entrambi sono settati con la luminosità massima e possiamo adesso andare a fare un piccolo test. Il test sarà di vedere una foto su entrambi i telefoni, su entrambi, su tutti e tre in questo caso i telefoni, e un video su tutti e tre i telefoni. Sceglieremo purtroppo però un video a 480p, visto che il dispositivo dell'Hacktel, questo qua, lo Scraibisi, non vede i video a maggiore risoluzione. Allora, andrei quindi subito in galleria, quindi andrei ad aprire allora a questo punto il video in questione, la foto che abbiamo appena detto. Quindi, per esempio, possiamo scegliere, vediamo un po', come foto per tutti, questa qui magari, spero vi piaccia, questa magari la prendiamo come foto di test, e poi il video che è l'altro. Il video sarebbe questo qui, che abbiamo già visto, per chi ha visto la recensione, già nella video recensione relativa all'Hacktel Scribe Easy. Bene, quindi dicevamo, adesso andiamo a prendere sull'S4 la stessa foto, eccola qui, e lo mettiamo qui. E poi andiamo a prendere la stessa foto anche sull'Hacktel OneTouch Dual SIM 6030D. Tre schermi che sono, ripeto, differenti tra di loro, per quanto riguarda la risoluzione e che ci potranno permettere di apprezzare le differenze tra i vari dispositivi. Allora, li andrei a vedere prima questi due, poi magari mettiamo l'Hacktel, l'altro Hacktel. Ok, allora, questa è la differenza che si ha andando a vedere sopra il Samsung Galaxy S4 sotto l'Hacktel S6030D. Ora, guardate la differenza, spero che si riesca ad apprezzare dalla camera, la differenza che c'è tra questa montagna, tra come viene visualizzata questa montagna, rispetto a come viene visualizzata sull'Hacktel Scribe Easy, che sarebbe questo qui. C'è la differenza, a mio modo di vedere, davvero abissale. Detto questo, andrei a fare la differenza con l'Hacktel, andiamo ad ingrandire la foto, l'altro, abbiamo due Hacktel a confronto, ma con uno schermo che ha una risoluzione, direi, molto, già non molto differente, ma comunque, già da questa risoluzione si può vedere come mettere qualche pixel in più ci dà praticamente, su uno schermo che è anche più piccolo, ci dà praticamente, ora, differenze importanti dal punto di vista della visualizzazione. Già che ci siamo, allora, andiamo a vedere il video che dicevamo in precedenza e facciamo partire su entrambi i telefoni e vediamo un po' come si vede. Questo è come viene visto dall'Hacktel Scribe Easy. È sicuramente un 480p, quindi considerate che è fatto apposta per la risoluzione di questo tipo di telefono. Però, diciamo che si vede bene, ma quando andiamo, lo andiamo a vedere su questo dispositivo, che sarebbe l'HTL 6030D, vediamo che c'è, a mio modo di essere a parere, un display con una luminosità e con una visualizzazione dei colori, secondo me, superiore. E se andiamo a mettere, invece, a questo punto, andiamo a fare uno scontro davvero, come dire, impari, se andiamo, infatti, a mettere il Samsung Galaxy S4 a confronto, direi che da questo punto di vista abbiamo davvero uno scontro tra, come dire, tra Titani e Lillipusiani, e quindi direi che, ora che parte il video, vedremo una differenza abbastanza importante tra i due display, soprattutto anche per la luminosità che produce l'S4. Ora, non capisco perché il video non parte sull'S4, sì che siamo in streaming, ma era davvero piccolo il video da andare a vedere, forse oggi abbiamo qualche problema con il Wi-Fi. Proviamo a far ripartire il video. Ecco, è partito. Abbiamo una visualizzazione dei colori secondo me di gran lunga superiore rispetto all'Alcatel. Naturalmente, poi, abbiamo secondo me le differenze superiori quando andiamo magari a fare delle letture oppure a vedere qualcosa su internet, quindi, in questo caso, possiamo aprire per tutti quanti i telefoni il nostro Android Android Block. Ecco qua. Lo apriamo anche di qua. Ora, non stiamo facendo test di velocità e niente, quindi, non mi soffermo nell'aprire prima l'uno o prima l'altro o chissà che cosa ma solo di visualizzazione quindi solo di display stiamo testando in questo caso. ecco qua. Ecco qua. Abbiamo aperto praticamente su tutti quanti i dispositivi tranne l'S4 che sta sta arrivando? Chissà? Ok, sì, ora sta arrivando. Ecco. Già, secondo me, da questa immagine si può vedere la differenza che abbiamo su questi dispositivi. Infatti, entrambi, tutti e tre, sono settati a luminosità massima. Ma come si può vedere, già senza avvicinare i telefoni alla camera, sicuramente questo schermo qui tende più all'azzurino rispetto agli altri e tende ad essere meno nitido rispetto agli altri. Infatti, facciamo una prova. Vi avvicino così, anzi, no, avvicino la camera così andiamo sempre alla stessa distanza. Ecco, avvicino la camera e voi scommetto che sull'S4 quasi quasi cominciate a leggere. Ecco, sull'S4 quasi quasi cominciate a leggere. Mentre sullo Scribe Easy direi che fate fatica a leggere la stessa scritta che vedete su questo articolo. Stessa cosa di qui. Ora si è spento. Lo riaccendiamo. Ecco, vedete come praticamente riuscite quasi a leggere la stessa scritta che vedete qui sull'HDL S630D riuscite quasi a leggerla. Non a leggere come l'S4 visto che l'S4 è una televisione superiore. Però forse riuscite appunto ad avere una migliore lettura non forse sicuramente sia una migliore lettura sul S630D. Quindi abbiamo voluto mettere apposta queste differenze a confronto questi dispositivi proprio per farvi apprezzare quali sono le differenze e cosa dico per farvi rendere conto anche di quando parlo e dico di magari bene o male di un dispositivo rispetto ad altri o di un display rispetto ad un altro. Questa è la differenza. Se magari su un video su una foto su qualsiasi cosa non c'è questa magari clamorosa diversità però quando si vanno a leggere tesi quando si va su internet e qualcosa beh la differenza si sente e come abbiamo visto si sente abbastanza pesantemente per quanto riguarda lo scribe easy. Grazie a tutti gli amici di androidblog.it e tutto per questa come possiamo chiamare per questo versus tra i display di questi dispositivi. Ciao e grazie a tutti.